Salve a tutti signori e benvenuti alla recensione del 42.5mm f1.2 Nauticron di Panasonic, un'ottica che mi è piaciuta tantissimo e adesso andrò a spiegarvi i motivi. Parlando velocemente dell'ingombro che ha e dei materiali, di fatto è enorme per essere un'ottica micro 4 terzi, però ho visto che l'andazzo, così come per il mio 16mm f1.4, è quello di fare delle ottiche grosse. Ma questo non toglie che obiettivi del genere, ed in particolare questo, siano delle perle assolute e che riescono a fare delle foto e di video di qualità impressionante. È un cilindro metallico con due ghiere, una che è quella che mi piace più di tutte, che è questa qui dell'apertura, che può essere settata in automatico oppure fino a f16, e poi c'è quella del fuoco manuale, che è quella posta un po' più indietro, o comunque di qualsivoglia altra regolazione stiamo attuando al momento. Sul fianco molto comodi i due switch, uno per attivare e disattivare lo stabilizzatore, che poi vedremo funziona molto molto bene, e l'altra invece è per il fuoco automatico manuale. Ma perché mi piace così tanto questo obiettivo e insomma ho ignorato il fatto che fosse così ingombrante? Per il semplice fatto che le foto che tira fuori sono qualcosa di impressionante. Il bouquet che riusciamo ad ottenere ad f1.2 è impressionante, ma non solo perché ce n'è molto, ma per il fatto che è molto ben calibrato. Secondo me in tante occasioni si vuole fotografare ad aperture molto ampie come questa, però ci si scorda che ad un certo punto non si riesce neanche ad avere a fuoco il proprio soggetto. Quindi non è sempre un bene scattare ad aperture immense, ma in questo caso quando vogliamo spingerlo al massimo vi assicuro che non vi deluderà per niente, riesce benissimo ad isolare il soggetto e la parte sfocata della foto è molto ben equilibrata, molto bella da vedere, quindi ha un bouquet assolutamente pulito, senza riflessi di mezzo, infatti se la cava molto bene da questo punto di vista, con poca vignettatura, quindi veramente delle foto che vi accorgerete guardandole sono molto molto belle. A cosa dovete rinunciare per riuscire a fare foto e video con questo obiettivo? Beh, alla praticità di un grand'angolo, perché il video che sto facendo adesso non sarebbe mai possibile con questo obiettivo, che a focale raddoppiata arriva ad 85 mm giusti, quindi assolutamente un obiettivo che rientra in quelli da ritratto, però è un'ottica fissa, quindi voi potete fare la foto lì e unicamente lì, non potete tirare indietro o avanti, ma questo non penso che fosse un mistero. Personalmente parlando, preferisco fare qualche passo indietro e godere appieno della qualità di questo obiettivo, piuttosto che cambiarlo ed utilizzare un grand'angolo. Come nell'ultimo video dell'unboxing cinese, ho preferito utilizzare questo obiettivo che non fa il grand'angolo, perché dà un effetto molto più bello, molto più incentrato sul soggetto, insomma non saprei come spiegarvelo, vi lascio qualche esempio e valutate voi. La nitidezza è fantastica, non è esagerata, quasi da rovinare la foto, ma è appunto calibrata al punto giusto. Tutto in questo obiettivo alla fine è calibrato al punto giusto, forse tranne il prezzo, ma di quello parleremo alla fine. Magari la nostra camera non è stabilizzata, questo obiettivo riesce assolutamente a parerci le chiappe, siccome è una stabilizzazione, con tutto lo spazio che c'è, immagino ne abbiano messo uno molto buone, e infatti riesce a tenere molto ferma l'immagine e i movimenti sono abbastanza fluidi, direi per lo zoom che comporta, cioè quello di un 85 mm, perché ovviamente con 85 mm comincia a diventare fastidioso avere micro vibrazioni, soprattutto nelle foto, mentre con questo obiettivo riusciamo sempre a fare foto fermissime, il che è abbastanza impressionante, perché non tutti gli obiettivi ci riescono nonostante siano stabilizzati. Se poi, come nel mio caso di GX8, fate la combinazione dual IS, potete stare sicuri che non ci sarà del micro mosso, e manco del mosso, e manco qualcosa che ci assomiglia. Ovviamente essendo f1.2 ha delle qualità, per quanto riguarda la luce, o in particolare la poca luce, impressionanti. Già il mio f1.4, e mi ricordo f1.7 che avevo recensito, andavano molto molto bene al buio, ma questo qui li supera tutti. Ovviamente apertura più ampia, f1.2, è spettacolare, anche per un micro 4 terzi, e quindi come vedete il risultato è molto molto bello, anche in situazioni di scarsa luce. Mi è piaciuto assolutamente a questo punto di vista, perché io ci tengo a fare inquadrature quando c'è poca luce, anche perché sono le più suggestive, a volte le più belle. Bene, per tagliarla corta, vi dico quanto costa. Sono 1.400 euro di obiettivo su Amazon, nuovo, e quindi sì, sovrasta praticamente quasi tutte le mirrorless Panasonic su cui volete metterlo sopra, esclusi le top di gamma assolute. Io penso che una volta messo questo obiettivo sulla vostra mirrorless, sia lui che fa la maggior parte della qualità della foto. Cosa intendo? Che nella maggior parte dei casi, quando fate una foto o un video, la qualità effettiva, cioè quanto verrà bello, che non è tanto tecnico come cosa, ma cercate di capire, è merito della fotocamera più che dell'obiettivo. In questo caso, quando andate a fare una foto o un video, in particolare con fotocamere sotto i 1000 euro, state sicuri che se è spettacolare, è per via di quell'obiettivo lì. Anche perché se mettete lo stesso, il modello che costa 200 euro, cioè l'F1.7 mi pare, non otterrete lo stesso risultato, nonostante l'equipaggiamento sia pressoché identico. Dunque, vale la spesa? Sì. Se vi avanzano 1400 euro, direi che è un obiettivo che vale quel costo. Direi che è un obiettivo che vale quel prezzo. Cosa intendevo quando dicevo poco equilibrato? Il fatto che la maggior parte del mirrorless Panasonic, parlando di Panasonic, su cui potete metterlo, costano ben di meno di esso. E di solito non si è molto propensi a spendere più di ottica, molto più in questo caso, che non fa di corpo. E quindi risulta un po' strano. Però, su qualsiasi corpo lo andrete a mettere, G7, GX9, G80, G9, GH5, chi più ne ha più ne metta, farà assolutamente faville. Perché è un obiettivo fantastico, con veramente pochi difetti. Io per questa recensione vi lascio, con la promessa che arriveranno tanti altri obiettivi interessanti da recensire. Siccome Panasonic ha un parco molto molto ampio con le Micro 4 terzi, io ho un Micro 4 terzi e oltre a quella recensione del Sigma, che arriverà prima o poi, ve lo prometto, ci sarà anche molto altro. Per questo video è tutto e... se vediamo!